Buonasera, avete prontato? Qui ho fatto un bello sconticino. Arrivederci. Lavorare, lavorare. Grazie. Mi è arrivato l'atto di precetto. Al massimo ti posso dare due settimane. Sono 50.000 euro. Mi ha morto mio padre. Laggiù non ci torno. Io ho saputo che tu non ci vedevi a mio fuori ad Anna. Sei stressato? Non sono stressato! Nomino i miei figli Carlogero e Salvatore con i regni della casa di famiglia. Io sono interessato alla vostra casa di famiglia. Questa è la cifra. Salve, si può fare. Devi cercare di convincere il tuo fratello a cedere anche la sua parte. E chi ci vuole? Soca. Ma che ci fate qui? Mi ha sbattuto fuori di casa, papà. Adesso aspetta la Carmela. Qual è mia mamma? Fai ragionare tua madre, digli qualcosa, aiutami. Datti una pettina dei pensieri. Vuoi farmi andare sull'astrico? Sei sull'anno in Maranzano? Me la fai ui sciuveria. Non è colpa mia se la tua vita è andata come è andata. Io mi fidavo di te. Mi avete portato là sopra per farmi ravanare nel passato. Siamo scappati perché da qualunque altra parte è sempre meglio da stare qua. Tu sei a cosa in tempo? A questa famiglia. A questa famiglia. Nessuno guarda come siamo vestiti, dai. Scusi, il bagno? Siamo appena... Di solito è in fondo a destra. Grazie. 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 Grazie a tutti.